Il Comune attiva un servizio di vigilanza nei parchi cittadini più importanti, una novità assoluta per la città dell'Aquila, determinata anche da recenti e frequenti episodi di vandalismo che si sono compiuti ai danni di quello che è un patrimonio pubblico e collettivo. I parchi con la vigilanza saranno Parco del Sole, Parco del Castello, Parco Unicef a Pettino, Parco delle Acque alla Ribera, Piazza Italia, Parco Baden-Powell, quello è via Svizzera, in via De Ciocca alla Torretta, in via Lerendina, oltre all'area verde di San Bernardino. Una sorta di giro inaugurale delle attività oggi al Parco del Sole con l'assessore all'ambiente Fabrizio Taranta, l'accordo è con un istituto di vigilanza privato che si occuperà del servizio. Dopo il censimento che abbiamo realizzato, la verifica delle strutture, ora abbiamo iniziato con un istituto di vigilanza privata questa sorveglianza, diciamo così, dei parchi per aumentarne la sicurezza. La sicurezza è in tutti i sensi perché nel giro che gli operatori faranno verrà valutato ovviamente sia la mattina che la sera lo stato, diciamo così, delle attrezzature dei parchi e tutte le situazioni che sono presenti all'interno del parco. I parchi che possono essere chiusi e aperti verranno aperti la mattina e chiusi la sera con due diversi orari, estivo e invernale. L'invernale dalle 6 alle 22, mentre l'estate dalle 6 alle 24. I parchi che non possono essere chiusi verranno monitorati e valutati. Ovviamente nel caso in cui dovessero riscontrare delle situazioni da segnalare verranno segnalate immediatamente. Nel caso invece in cui non ci sarà nulla da segnalare avremo comunque un report settimanale per verificare appunto il servizio che è stato svolto e all'interno dei parchi sono riportati dei dispositivi che comunque monitorano il passaggio degli operatori. Si faranno dei giri di pattugliamento due volte al giorno, la mattina e la sera. Nei parchi delimitati in cui c'è il cancello, gli spazi saranno aperti e chiusi. Le guardie faranno i loro giri insomma per vedere se tutto è tranquillo. La presenza dell'istituto di vigilanza fa parte di un protocollo d'intesa con la prefettura chiamato Milleocchi sulla città. Loro avranno un canale preferenziale infatti per eventuali segnalazioni. 20.000 euro sono i soldi impegnati in questa prima parte che è definita sperimentale. Si valuterà l'andamento del servizio ma l'idea è di estenderlo da altri parchi cittadini per fare da deterrenti a situazioni pericolose o di inciviltà.